Live Social Giustamente il viaggio è una cosa che ti senti proprio che ti scorre nelle vene Esatto proprio nel sangue esatto proprio una passione come dire un po innata Allora il tuo blog si chiama appunto viaggiamocela www.viaggiamocela.it Se non siete in macchina ovviamente iniziate a darci un'occhiata magari Simone che tipo di viaggi sono quelli che ci racconti? Ma il mio è un blog un po' diverso dal classico travel blog diciamo Perché oltre alle mie esperienze di viaggio cerco anche di inserire notizie Proprio a 360 gradi del mondo dei viaggi quindi notizie su paesi, start up o quant'altro Qualsiasi cosa correlata ovviamente al mondo Esatto sul mondo viaggi turismo esatto Ma senti dai anche dei suggerimenti ai viaggiatori magari su come viaggiare che so Spendendo di meno vedendo quei posti che non trovi nelle guide turistiche forse Ma diciamo che sì nella parte appunto relativa ai miei viaggi Oggi do qualche notizia su località poco conosciute o magari cittadine nei dintorni di capitale europea Giusto per non stare a vedere solo la capitale ma ci sono cose molto carine anche nei dintorni Senti Simone tu hai detto che hai avuto sempre la passione per il viaggio ma il blog invece come è arrivato? Ma questo blog diciamo che è nato da una problematica nata ad ottobre 2007 di una nota compagnia aerea Quindi diciamo che ho colto la palla al balzo per pubblicare qualche notizia E di conseguenza poi è partito tutto da quello diciamo Però avevo già un sito che gestivo insieme ad un mio amico Dove appunto raccoglievamo solo ed esclusivamente le nostre esperienze di viaggio Quindi diciamo che un po' di esperienza ce l'ho ecco Te l'hai già fatta Esatto Senti vuoi raccontarci un viaggio che ti è particolarmente piaciuto e che magari racconti anche nel tuo blog? Guarda diciamo che è una meta poco conosciuta a livello turistico ma più a livello di trekking e turismo di avventura Sono stato in Nepal a maggio dello scorso anno Ok Ho avuto questa opportunità perché ho vinto il volo e ho andato e ritorno Che fortuna bro Uno dei vantaggi di essere travel blogger è anche questo Quindi ho avuto la possibilità di fare questa esperienza a 12 giorni in questo paese Colpito ahimè nel 2015 dal terremoto Quindi si vedono ancora i danni causati appunto dal sisma Però è pazzesco appunto vedere la gente Che non ha nulla però è ricca nel senso che hanno questo animo Che trasmettono attraverso il sorriso gioia di vivere comunque ospitalità Loro gli basta sorridere quindi hanno tutto col sorriso pur non avendo nulla E' un contesto molto particolare insomma Esatto esatto sì Allora vi ricordo www.viaggiamocela.it Andate a dare un'occhiata ai suoi contenuti a Simone che ormai di viaggi ne ha fatti tanti Di notizie ne ha raccontate tante no? Abbastanza sì diciamo che io ho viaggiato più che altro in Europa Quindi più che altro capitale europee e appunto mia età extra europea è stata il Nepal Sì certo Quindi il problema quando devo organizzarmi per un viaggio è cercare di vedere un paese dove non sono stato In Europa è un po' difficile In Europa è un po' più difficile Esatto Ma senti Simone una piccola curiosità quali sono le novità diciamo del momento sul mondo dei viaggi no? Visto che tu le racconti ci stai sempre dietro Ma guarda ti posso dire senza fare i nomi delle compagnie però c'è una compagnia di crociera italiana Che qualche settimana fa ha lanciato il catalogo nuovo con novità appunto anche sul catalogo E parlava anche delle mete riguardanti il 2020-2021 Ah quindi preventivamente Addirittura crociere intorno al mondo Quest'anno già è partita la prima Quindi Drizziamo le antenne insomma Esatto Viaggiamocela lo trovate anche sui social Twitter, Instagram e Facebook Sempre con lo stesso nome E potete contattarlo all'inirizzo mail L'info chiocciolaviaggiamocela.it Magari gli segnalate qualche novità che gli è sfuggita Così lui ve la pubblica volentieri Allora io Simone ti ringrazio di essere stato con noi stasera Grazie a voi